Buongiorno a tutti, oggi ci siamo chiesti di Francescani a Monte Cattini Terme dove abbiamo un concerto di quattro campane che adesso ascoltiamo suonare per mezzogiorno quindi faremo un tempo sedere, so campanone, su quale mezz'ora, l'altra in zona e suonando adesso ascoltiamo un battito dell'ora sul campanone, poi discesa del campanone qui ne vanno a ascoltare tutti, ciao! Buongiorno a tutti Grazie Grazie Grazie